Ciò che qualche anno fa era considerato fantascienza, sta diventando realtà con gli Smart Glasses Connected Ride di BMW Motorrad. Gli innovativi occhiali da moto offrono la tecnologia Head-Up Display, già nota nel settore automobilistico, e proiettano tutti i dati rilevanti, come la navigazione, la velocità o la marcia, direttamente nel campo visivo del pilota in tempo reale, consentendo così una guida con informazioni anticipate e quindi più sicure. Gli Smart Glasses Connected Ride di BMW Motorrad possono essere facilmente collegati allo smartphone tramite Bluetooth e App. La proiezione può essere posizionata e le impostazioni possono essere selezionate prima della guida e anche durante la guida tramite il multicontroller sul manubrio della moto. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti.